ho parlato di Titto Bras, non so chi sia, e con le Lunatici Radio 2, le Lunatici, Manuel Fondato con Paoletto Frasca, Manuelino e Paoletto, noi siamo a 9 km da Reggio, faremo il Bancomato di Pippa Inzaghi, buia come un finale Senti, parlando insomma della tua lunghissima carriera in una recente intervista, tra l'altro proprio nel salotto di Serena Portone che è anche nostra vita, la salutiamo, è fantastico Ti evidenzia quanto sei, quello che sei, perché se hai lavorato con Titto Brastico, ventina sola, dopo avrai avuto una svolta seria però, sicuramente Sì, ma una fa un film con Titto Brastico, una fa la Pornostar, poi è folgorata sulla via della fede, c'è la conversione, ma va, no, è che quando, allora prima fai la Sexista Lucia Caponegro, Lucia Caponegro Ravennate, ha fatto film porno a Raffica, no? Come il nome dell'ex centroavanti di Brescello e molto altro, quindi ha fatto quella Raffica, poi a un certo punto, accattivante, come molte accattivate, come molte persone, dice, sì, ma ho capito, ma come faccio adesso a far parlare?